L'ente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Dalburni, dà il via alle procedure per la nomina del nuovo direttore del parco, ruolo svolto attualmente da Gregorio Romano, sindaco di Laurino e con contratto in scadenza il 30 giugno 2021. La persona che occuperà il ruolo di direttore del Parco Nazionale sarà scelta da una lista formata da tre candidati, sottoposta dal Consiglio Direttivo al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che deciderà chi svolgerà la mansione. A chi verrà conferito l'incarico anche la responsabilità delle aree marine protette di Santa Maria di Castellabate, di Costa degli Infreschi e della Masseta. Ora sarà avviata dal Consiglio Direttivo, guidato dal Presidente Tommaso Pellegrino, la selezione pubblica con l'obiettivo di individuare la rosa di tre soggetti idonei alla candidatura e alle funzioni di direttore dell'ente parco.